Plastic 2 Fast Soccer 6 la parola all'altaccante è Brancaccio la torre di una splendida quaterna 6 a 2 finale, 3 punti importantissimi per continuare a coltivare il sogno di qualificazione al turno successivo dopo la partita che abbiamo fatto martedì è stata una beffa per noi abbiamo perso negli ultimi 3 minuti e oggi ci dovevamo riscattare assolutamente ed è arrivata la vittoria tanto voluta perché stavamo veramente vogliosi di vincere oggi la punta della squadra, il finalizzatore però naturalmente se segni si è anche messi in condizione di far bene in squadra c'è un certo capitano Diamante Falco che è uno dei top player di categoria sicuramente, sicuramente, diamo atto di questo facciamo il sacrificio un po' per tutti quanti ci alterniamo e chi magari ha la possibilità di segnare lo fa nel miglior modo possibile presentiamo la squadra, che gruppo è nato? è nato all'ultimo momento ci siamo amalgamati all'ultimo momento gli ultimi 15 giorni e abbiamo fatto questa squadra così tanto per divertirci però ci stiamo mettendo tanto agonismo tanta passione per fare bella figura 6 punti in classifica questa squadra dove vuole arrivare? noi cerchiamo di qualificarci vogliamo fare la qualificazione vogliamo arrivare agli ottavi speriamo bene pensiero che più di una volta vi vedo giocare ma al di là della prestazione si può vincere o si può perdere è una cosa che mi è piaciuta particolarmente il tifoso di spalti queste vostre maglie con i bambini questo è davvero lo spirito bello che noi vogliamo raccontare è questo che noi abbiamo messo questa è la nostra prima vittoria perché abbiamo inserito tutti i nostri colleghi che vengono a vedere le partite con tanta passione tanta voglia tifano per noi ci fa molto piacere siamo anche più questa vittoria lo possiamo dire per tutti i colleghi sicuramente sicuramente Grazie a tutti.